Ippia Maggiore, sul bello, confutatorio. Prologo, incontro di Socrate con Ippia il sofista. Ippia si reca raramente ad Atene, in quanto impegnato come ambasciatore della sua città, soprattutto a Sparta. Socrate. Ippia, il bello e sapiente, da quanto tempo non capiti qui ad Atene? Ippia. Non ho proprio tempo libero, Socrate. Infatti Elide, quando deve trattare qualcosa con qualche città, si rivolge sempre a me, come primo dei cittadini, scegliendomi come ambasciatore, ritenendo che io sia il più capace di giudicare e di riferirle le cose che vengono dette in ciascuna delle città. Perciò sono stato spesso ambasciatore anche in diverse città, ma nella maggior parte dei casi, e per questioni di importanza assai grande, a Sparta. Per questo motivo per rispondere alla tua domanda non vengo spesso in questi luoghi. Confronto con i sofisti dei grandi sapienti dei tempi passati. Socrate. Ma questo Ippia significa essere veramente un uomo sapiente e perfetto. Tu, infatti, sei in grado, in privato, ricevendo molto denaro dai giovani, di dare loro vantaggi ancora superiori ai denari che ricevi. E inoltre, in pubblico, sei in grado di procurare benefici alla tua città, come deve fare chi non vuole vivere all'oscuro, ma avere buona fama fra le genti. Ma Ippia, qual è allora la ragione per cui quegli antichi, i cui nomi sono diventati grandi per la sapienza, come Pittaco, Biante, i seguaci di Talete di Mileto e quelli che vennero dopo fino ad Anassagora, tutti o per la maggior parte risulta che essi si sono tenuti lontani dalle attività politiche? Ippia. Per quale motivo pensi, Socrate, se non perché non avevano il potere e la capacità di occuparsi con sapienza di tutte e due le cose, di quelle pubbliche e di quelle private? Socrate. Allora, per Zeus, dobbiamo dire che sono progredite come tutte le altre arti e che, a paragone con gli artefici di oggi, quelli di un tempo risultano inesperti. Così dobbiamo credere che anche la vostra arte di sofisti è progredita e che i sapienti del passato valgono poco rispetto a voi? Ippia. Parli in modo giusto, Socrate. Allora, Ippia, se ora Biante ritornasse fra noi, farebbe ridere rispetto a voi. Così come gli scultori di oggi dicono anche di Dedalo, ossia che se oggi rifacesse quelle opere per le quali è diventato famoso, sarebbe ridicolo. Ippia. Le cose, Socrate, stanno proprio così, come dici tu. Io, però, sono solito elogiare gli antichi, quelli che sono venuti prima di noi. Prima ancora e più di quelli di oggi. Per difendermi dall'invidia dei vivi e anche per timore dell'ira dei morti. In che cosa consistono i progressi fatti dall'arte dei sofisti? Socrate. Ippia. Tu parli bene e ragioni bene, mi sembra. Posso testimoniare che dici il vero e che, in effetti, la vostra arte ha fatto grandi progressi per quanto riguarda la capacità di esercitare nello stesso tempo affari pubblici insieme a quelli privati. Infatti, Gorgia da Leontini, il sofista, venuto qui dalla patria come ambasciatore, come l'uomo più capace tra gli abitanti di Leontini di trattare affari pubblici nell'assemblea, diede l'impressione di parlare in modo eccellente. E anche privato, con le sue declamazioni oratorie e stando insieme con i giovani, guadagnò molti denari in questa città. E se vuoi un altro esempio, ti dirò che il nostro amico prodico più volte si è recato in altre città con incarichi pubblici. Da ultimo, giunto da CEO come ambasciatore, parlando del consiglio, ottenne un grande successo e in privato, con le sue declamazioni oratorie e stando insieme con i giovani, ricavò straordinarie ricchezze. Invece, nessuno dei sapienti del passato ritenne giusto esigere compensi in denaro, né dare saggi oratori della propria sapienza davanti agli uomini di ogni tipo. Erano così ingenui che sfuggiva loro quale grande valore abbia il denaro. Ciascuno di questi due, invece, ha ricavato dalla sapienza più denaro che qualsiasi altro artefice da una qualsiasi altra arte. E ancora prima di questi, Protagora. Ippia. Ma allora, Socrate, non conosci nessuna delle cose belle a questo riguardo. Infatti, se tu sapessi quanto denaro io ho guadagnato, rimarresti stupefatto. Tralascio le altre cose, ma giunto una volta in Sicilia, quando la soggiornava Protagora, e già aveva grande notorietà ed era più vecchio di me, mentre io ero molto più giovane, in poco tempo ho guadagnato più di 150 mine e in una sola località molto piccola, in Ico, più di 20 mine. Tornato quindi in patria, con tutto questo denaro, lo diedi a mio padre, così lui per primo e tutti gli altri cittadini si meravigliarono e rimasero sbigottiti. Ritengo di aver guadagnato più ricchezze io che due qualsiasi altri sofisti che tu voglia mettere insieme. Socrate. Ippia, mi fornisci una bella testimonianza della tua sapienza e della differenza che c'è tra voi uomini di oggi e i sapienti antichi. Stando a quello che hai detto, l'ignoranza di quelli del passato a questo riguardo era grande. Dicono che ad Anasagora sia successo il contrario di quello che è successo invece a voi. Infatti non si curò delle molte ricchezze che ricevette in eredità e le perse tutte quante. Tanto insensato era il modo con cui usava la sua sapienza. Si narrano poi altre cose di questo genere e anche di altri sapienti del passato. Perciò mi sembra che tu dia una bella testimonianza sulla sapienza dei contemporanei rispetto a quella degli antichi. E infatti una convinzione di molti che il sapiente debba essere sapiente soprattutto a favore di se stesso e che questo significhi che deve fare denaro il più possibile. Queste cose che sono state dette sono sufficienti. Dimmi invece in quale città di quelle in cui sei andato hai ricavato più denaro? O non è evidente che si tratta di Sparta dove tu ti sei recato il maggior numero di volte? A Sparta l'arte sofistica di Ippia non ha avuto successo. Ippia proprio no per Zeus Socrate. Socrate come dici ma lì hai guadagnato di meno? Ippia non ho guadagnato niente assolutamente niente. Socrate dici una cosa straordinaria e stupefacente Ippia dimmi allora ma la tua sapienza non è forse capace di rendere più virtuosi coloro che si impegnano in essa e la apprendono? Ippia è anche molto Socrate. Socrate dunque sei stato capace di rendere migliori i figli degli inici e non quelli degli spartani. Ippia sei molto lontano dalla verità. Socrate allora gli uomini della Sicilia desiderano che i loro figli diventino migliori mentre gli spartani no. Ippia lo desiderano e molto Socrate anche gli spartani. Socrate evitavano forse di avere rapporti con te per mancanza di denaro. Ippia proprio no ne hanno abbastanza. Socrate allora qual è la ragione per cui pur desiderando questo e avendo denaro e nonostante tu fossi in grado di procurare loro vantaggi assai grandi non hanno voluto rimandarti in patria carico di denaro ma la ragione non è forse che gli spartani ritengono di essere capaci di educare i loro figli meglio di te? Potremmo dire così e tu sei d'accordo. Ippia niente affatto Socrate forse a Sparta non sei stato capace di convincere i giovani che stando con te sarebbero diventati i più virtuosi di quanto non lo potessero diventare frequentando i loro concittadini o non sei riuscito a convincere i loro padri che bisognava che affidassero a te i figli se avevano cura di essi più che occuparsene loro stessi? Non avranno certo voluto impedire i loro figli di diventare migliori il più possibile. Ippia non lo credo davvero che lo impedissero per invidia Socrate ma Sparta ha buone leggi? Ippia e come no? Socrate e nelle città che hanno buone leggi la virtù ha pregio in sommo grado? Ippia certamente Socrate e tu sai comunicare la virtù ad altri meglio di tutti? Ippia è molto meglio Socrate Socrate ma chi sa insegnare l'arte ippica nel modo migliore non sarebbe apprezzato in sommo grado in tessaglia più che in ogni altra parte della Grecia e non guadagnerebbe grande quantità di denaro qui e in qualunque altro luogo in cui l'arte ippica sia tenuta in gran conto? Ippia è evidente Socrate e allora chi è capace di comunicare insegnamenti che sono del più grande valore per la virtù non godrà del più grande onore a Sparta e se lo vorrà vi guadagnerà moltissimo denaro se lo vorrà e così in qualsiasi altra città della Grecia ben governata? O credi carissimo che questo gli sarà più possibile in Sicilia e ai Nico? Dobbiamo credere a questo Ippia? Se tu lo comandi bisognerà crederci. Secondo Ippia a Sparte l'arte sofistica non ha successo perché in contrasto con le leggi patrie. Ippia per gli spartani Socrate non è conforme al costume patrio modificare le leggi e neppure educare i figli contrariamente ai costumi. Socrate come dici per gli spartani non è costume patrio agire in modo retto ma sbagliare. Ippia non lo direi proprio Socrate. Socrate allora non agirebbero rettamente educando i loro figli in maniera migliore e non peggiore. Ippia agirebbero rettamente sì però è contro la legge per loro educare con criteri stranieri. Infatti se devi sapere che se mai qualche altro con l'educazione fosse riuscito a guadagnare la ricchezze io ne avrei guadagnate molte di più. In effetti gli spartani nell'ascoltarmi si dilettano e mi lodano però torno a dirlo non così la legge. Socrate tu Ippia dici che la legge è un bene per una città o un male? Ippia la legge credo si stabilisce a vantaggio della città ma talvolta è di danno quando è fatta male. Socrate e allora? I legislatori quando stabiliscono una legge non la stabiliscono forse per il bene più grande per la città e non a caso senza di essa è impossibile governare una città con ordine. Ippia dici il vero. Socrate quando dunque coloro che si impegnano a stabilire le leggi falliscono nel raggiungere il bene fanno uno sbaglio per quanto riguarda il diritto e la legge o come dici? Ippia per dirla in modo giusto Socrate è proprio così però gli uomini di solito non parlano così. Socrate quelli che sanno o quelli che non sanno Ippia? Ippia. I più. Socrate ma i più sono forse coloro che conoscono la verità? Ippia certo che no. Socrate ma coloro che sanno non ritengono forse secondo verità che ciò che è più vantaggioso e più conforme alla legge è per tutti gli uomini rispetto a ciò che è più dannoso o non sei d'accordo? Ippia. Sì sono d'accordo che sia così almeno per la verità. Socrate dunque le cose stanno veramente così come ritengono coloro che sanno? Ippia. sicuramente. Socrate allora come tu dici sarebbe più vantaggioso per gli spartani essere educati con il tuo metodo anche se è straniero invece che con il loro tradizionale. Ippia e dico il vero. Socrate e dici anche Ippia che le cose più vantaggiose sono quelle più conformi alle leggi. Ippia l'ho detto infatti. Socrate allora stando al tuo ragionamento per i figli degli spartani è più conforme alle leggi essere educati da Ippia e invece è più contrario alle leggi essere educati dai padri se da te potranno in realtà ricevere maggiori vantaggi. Ippia ma riceveranno sicuramente maggiori vantaggi Socrate. Socrate allora gli spartani violano le leggi non offrendoti denaro e non affidandoti i loro figli. Ippia sono d'accordo su questo mi sembra infatti che il tuo discorso sia a mio favore e non c'è bisogno che mi opponga ad esso. Agli spartani non interessano i discorsi sull'astronomia sulla matematica e sulle cose delle quali Ippia è esperto. Socrate allora gli spartani caro amico ci sembrano contrari alle leggi e proprio per quanto riguarda cose della massima importanza mentre sembrano essere più fedeli alle leggi però ti lodano per dei dei Ippia e se la godono nell'ascoltarti ma su quali cose? O non è evidente che sono quelle cose che tu conosci nel modo migliori ossia quelle che riguardano gli astri e i fenomeni celesti? Ippia per niente questi discorsi non li sopportano nemmeno Socrate allora se la godono nel sentirti parlare di qualcosa di geometria? Ippia niente affatto poiché si può dire alcuni di loro non sanno neppure fare i conti Socrate dunque sono ben lontani dal sopportare le tue declamazioni sui calcoli Ippia davvero molto lontani per Zeus Socrate ma allora si compiacciono di quelle distinzioni assai precise che tu sai fare più di tutti sul valore delle lettere delle sillabe dei ritmi delle armonie Ippia ma mio caro quali armonie e quali lettere Socrate allora quali sono le cose che ascoltano volentieri da te e per quali ti lodano? Dimmelo tu stesso dato che io non riesco a trovarle. I tipi di discorsi che gli spartani gradiscono Ippia agli spartani Socrate piacciono i discorsi che riguardano le stirpi degli eroi e degli uomini le fondazioni ossia come anticamente sono state fondate le città insomma ascoltano volentieri ogni racconto sulle cose dei tempi antichi tanto che io per causa loro sono costretto a esaminare e apprendere tutte queste cose Socrate per Zeus Ippia sei fortunato che gli spartani non si dilettino di sentire l'elenco degli arconti a partire da solone se no avresti dovuto imparare davvero tante cose Ippia perché mai Socrate io infatti dopo aver sentito una sola volta 50 nomi so ripeterli tutti a memoria Socrate ah è vero non pensavo che tu possiedi l'arte di imparare a memoria comprendo come mai gli spartani si dilettino con te che sai molte cose e vengono da te come i fanciulli vanno dalle vecchie per sentire i racconti in maniera piacevole Ippia sì per Zeus Socrate di recente ho riscosso un grande successo parlando delle belle occupazioni e mostrando a quali un giovane debba applicarsi infatti su queste cose ho composto un bellissimo discorso ben congegnato e tra l'altro anche con una buona disposizione delle parole ecco la prefazione e l'inizio del discorso dopo che troia fu presa viene detto che neottolemo domandò a nestore quali fossero le belle occupazioni coltivando le quali un giovane sarebbe diventato famoso dopo queste cose parla nestore proponendo molti consigli e molto belli e ho recitato questo discorso a sparta e mi accingo a ripeterlo anche qui fra due giorni nella scuola di fidostrato e anche molti altri discorsi degni di essere ascoltati me li ha chiesti eudico figlio di apemanto ma fai in modo di essere presente anche tu e conduci tu stesso anche altri capaci di giudicare le cose che verranno dette dopo averle ascoltate parte prima posizione del problema sull'essenza del bello e le tre definizioni proposte da ippia socrate sarà così se un dio vuole ippia ora però rispondimi in breve su una cosa che mi hai fatto venire in mente nel momento bello di recente verissimo un tale mi ha fatto cadere in difficoltà in una discussione nella quale io biasimavo alcune cose come brutte e ne lo davo alcune altre come belle facendomi all'incirca questa domanda in maniera assai arrogante e dicendomi come fai tu socrate a sapere quali cose sono belle quali brutte ebbene saresti in grado di dirmi che cosa è il bello e io per la mia piccolezza sono caduto in difficoltà e non sono stato capace di risponderli nel modo dovuto uscendo poi dalla riunione me la prendevo con me stesso mi riemproveravo mi minacciavo e mi ripromettevo non appena avessi incontrato uno di voi sapienti dopo avere ascoltato imparato e riflettuto di ritornare da colui che mi aveva interrogato per controbattere il suo discorso ora dunque come dico giungi proprio in un momento bello spiegami in modo conveniente che cosa è il bello in sé e cerca di rispondermi parlandomi nella maniera più precisa perché non venga confutato per la seconda volta e non mi renda di nuovo ridicolo tu infatti lo sai bene e questa non sarebbe se non una piccola conoscenza fra le molte che hai i pia davvero piccola per zeus socrate e di nessuna importanza per così dire socrate allora imparerò con facilità i pia e nessuno potrà più confutarmi i pia nessuno certo altrimenti il mio insegnamento sarebbe di scarso valore da incompetenti prima definizione di i pia il bello è una bella ragazza socrate per era dici bene i pia se riusciremo a vincere quell'uomo ma non ti sarò di ostacolo se imitando quel tale mentre tu mi rispondi faccio obiezioni a quello che dici in modo che tu mi istruisca quanto più è possibile infatti io ho una certa esperienza nel fare obiezioni allora se non ti dispiace vorrei fare obiezioni al discorso per imparare nella maniera più consistente possibile ipia fa pure obiezioni infatti come prima dicevo la domanda non è gran cosa e io potrei insegnarti a rispondere su cose molto più difficili di questa in modo che nessuno degli uomini possa confutarti socrate o come parli bene allora poiché tu me lo comandi io cercherò di interrogarti cercando di diventare quell'uomo quanto più è possibile se tu gli recitassi quel discorso cui facevi riferimento sulle belle occupazioni dopo averlo ascoltato subito dopo che tu abbia smesso di parlare egli non ti farebbe domande su altro prima che sul bello dato che ha questa abitudine e direbbe straniero di elide i giusti non sono giusti per la giustizia rispondimi ipia come se fosse lui a interrogarti ipia ti risponderò che lo sono per la giustizia socrate dunque la giustizia è un qualcosa ipia certamente socrate allora anche i sapienti sono sapienti per la sapienza e tutte le cose buone sono buone per il bene ipia e come no socrate e lo sono in quanto queste sono un qualcosa e non certo in quanto non lo sono ipia e lo sono certamente socrate e allora anche tutte le cose belle non sono belle per il bello ipia sì per il bello socrate e questo è un qualcosa ipia lo è ma dove vuoi arrivare socrate dimmi straniero chiederà che cos'è questo bello ipia che cos'altro vuole socrate chi fa questa domanda se non sapere che cosa è bello socrate ma non mi sembra ma piuttosto vuole sapere che cosa è il bello ipia ipia e che differenza c'è fra questo è quello socrate ti pare che non ce ne sia nessuna ipia infatti non c'è socrate ma allora è evidente che tu sai qualcosa di più bello però caro fa attenzione ti chiedo non quale cosa è bella ma che cos'è il bello ipia capisco caro io gli risponderò che cosa è il bello e non sarò certamente confutato socrate sappi bene che se si deve dire il vero tu lo sei bene il bello è una bella ragazza socrate corpo di un cane ipia hai dato una bella risposta in modo egregio e allora se io gli risponderò così alla sua domanda avrò dato una risposta in modo giusto e pensi che non sarò confutato ipia e come potresti essere confutato socrate in quello che è un parere di tutti e di cui tutti ti daranno conferma dopo aver sentito che parli in modo giusto socrate sia pure ma lasciami ritornare per conto mio ipia su ciò che tu dici quel tale mi farà l'incirca questa domanda su socrate rispondimi allora tutte queste cose che tu dici belle sono belle se c'è un bello in sé e io gli risponderò che se una bella ragazza è una cosa bella allora c'è qualcosa per cui cose come questa sono belle ipia credi allora che quel tale cercherà ancora di confutarti sostenendo che il bello non è quello che tu dici o che se cercherà di farlo non si renderà ridicolo socrate so bene carissimo che cercherà di farlo se però per avere cercato di farlo risulterà ridicolo sarà la stessa cosa a dimostrarlo però quello che certamente dirà te lo voglio riferire ipia dillo pure critica alla prima definizione del bello socrate come se ingenuo socrate mi dirà allora una bella cavalla non sarà una cosa bella dato che anche il dio l'ha lodata anche in un oracolo che cosa gli risponderemo ipia non dovremmo dire che anche una cavalla è bella almeno quando è bella come useremo infatti affermare che una cosa bella non è bella ipia dici il vero socrate perché anche il dio giustamente lo ha detto infatti presso di noi ci sono cavalle molto belle socrate sia così mi dirà è una bella lira non è forse anch'essa una cosa bella dobbiamo dirlo ipia ipia sì socrate quel tale dopo questo lo so bene in quanto conosco i suoi modi mi dirà carissimo è una bella pentola non è forse una cosa bella ipia socrate chi è quest'uomo come il rozzo uno che osa pronunciare nomi tanto volgari in un argomento così elevato socrate è proprio fatto così il piano non è raffinato ma volgare preoccupato di nient'altro che del vero però quest'uomo bisogna dare una risposta io dico subito come la penso se la pentola è stata fatta da un buon vasaio liscia tonda ben cotta come lo sono alcune belle pentole a due ansi dalla capacità di sei congi veramente molto belle e se quel tale alludesse a una pentola di questo tipo bisognerebbe ammettere che è bella in che modo infatti potremmo dire che una cosa bella non è bella ipia in nessun modo socrate socrate dunque mi dirà anche una bella pentola è una cosa bella rispondi ipia la cosa sta così socrate credo è bello anche un utensile come questo ben fatto ma nel suo complesso non è conveniente giudicarlo una cosa bella a confronto con una cavalla o con una ragazza o tutte le altre cose belle socrate sia pure capisco ipia che a uno che fa tali domande dovremmo fare queste obiezioni ma amico tu non sai come sia giusto quel detto di raclito secondo il quale la più bella delle scimmie brutta paragonata al genere degli uomini e anche la più bella delle pentole è brutta paragonata al genere delle ragazze come ben dice il sapiente ipia non è forse così ipia ipia sicuramente socrate hai risposto in modo giusto socrate ora ascolta dopo questo infatti so ben che dirà allora socrate se qualcuno paragonasse il genere delle ragazze con il genere degli dei non si verificherebbe la stessa cosa che si è verificata nel confronto tra pentole e ragazze la più bella delle ragazze non sembrerà brutta raclito che tu chiami in causa non dice forse la medesima cosa ossia che il più sapiente degli uomini è una scimmia in confronto con il dio e in sapienza in bellezza e in tutte le altre cose ammetteremo ipia che la più bella delle ragazze a confronto con gli dei è brutta ipia in effetti che cosa si potrebbe rispondere socrate in opposizione a questo socrate se allora saremo d'accordo anche su queste cose si metterà a ridere e mi domanderà socrate ti ricordi che cosa ti ho domandato e io dirò sì ossia che cos'è il bello in sé pertanto dirà tu alla domanda che cosa è il bello rispondi che esso è qualche cosa che come tu stesso dici si del caso che sia non più bello che brutto e io risponderò che così sembra o cosa mi consigli di risponderti amico mio ipia questo anch'io infatti dicendo che in confronto al genere degli dei il genere degli uomini non è bello dirà la verità socrate se io ti avessi domandato fin dall'inizio dirà quel tale di indicarmi che cosa è bello brutto e tu mi avessi risposto come hai fatto mi avresti forse risposto in modo giusto se invece ti pare ancora che il bello in sé sia qualcosa dal quale tutte le cose belle vengono ordinate e appaiono belle una volta che esse si aggiunga quella forma puoi credere che esso sia una ragazza una cavalla o una lira seconda definizione di ipia il bello e l'oro ipia ma per la verità socrate se è questo che cerca è la cosa più facile di tutte rispondergli che cos'è il bello e ciò per cui tutte le cose belle vengono ordinate e che quando si aggiunge a esse appaiono belle quell'uomo veramente stupido non si intende affatto di cose belle se infatti tu gli rispondessi che quello che cerca ossia il bello altro non è che l'oro si troverà in difficoltà e non cercherà di confutarti tutti sappiamo infatti che quando si aggiunge l'oro a un oggetto anche se questo era prima brutto ornato con loro sembra bello socrate tu non sai ipia come quest'uomo sia arcigno e non accetti nulla facilmente ipia ma che cosa significa questo socrate quello che gli viene detto in modo giusto deve necessariamente accettarlo se non l'accetta si renderà ridicolo socrate questa risposta non solo non l'accetterà mio caro ma si farà beffe di me e mi dirà stupido che sei pensi forse che fidia sia un cattivo artista e io penso dovrò rispondergli no assolutamente ipia e dirai giustamente socrate socrate giustamente certo e allora quello dopo che io avrò ammesso che fidia è un buon artista riprenderà credi che fidia ignorasse che cosa fosse questo bello di cui tu parli e io perché mai gli chiederò perché fidia mi risponderà non fece d'oro gli occhi di atena né altre parti del viso nei piedi nelle mani tutte parti che se fatte in oro avrebbero fatto apparire bellissima la statua ma la fece in avorio è evidente che in questo ha sbagliato per ignoranza non sapendo che è loro che rende belle tutte le cose quando si aggiunga a chi dice queste cose che cosa dobbiamo rispondere ipia ipia non è per niente difficile diremo che fece bene infatti l'avorio io penso è bello socrate allora per quale motivo dirà non ha fatto di avorio le parti intermedie degli occhi ma di pietra avendo trovato una pietra quanto più possibile simile all'avorio o anche la pietra è una cosa bella lo diremo ipia ipia lo diremo quando essa sia conveniente socrate quando invece non sia conveniente è brutta dovrò ammettere questo o no ipia ammettilo è brutta quando non è conveniente socrate e allora lavoro e loro dirà sapiente che sei quando sono convenienti fanno apparire belle le cose in caso contrario brutte negheremo ammetteremo che gli parla in modo giusto ipia ammetteremo questo che ciò che è conveniente per ciascuna cosa questo la rende bella socrate allora dirà nel caso uno voglia usare la pentola di cui parlavamo prima quella bella piena di legumi sarebbe più conveniente un mestolo d'oro o di legno di fico ipia per eracle di che uomo parli socrate non vuoi dirmi chi è socrate non lo conosceresti anche se ti dicessi il nome ipia ma conosco già fin da ora che è un ignorante socrate ah è proprio stizzoso ipia però che cosa gli risponderemo quale dei due mestoli conviene per i legumi e per la pentola o non è forse evidente che è quello di legno di fico infatti esso dà ai legumi un buon profumo e nello stesso tempo caro amico non rovina la pentola facendo rovesciare i legumi facendo spegnere il fuoco e privando i convitati di un cibo così appetitoso il mestolo d'oro causerebbe tutti questi inconvenienti tanto che a me sembra di dover dire che il mestolo di legno è più conveniente di quello d'oro a meno che tu non abbia qualche cosa di diverso da dire ipia socrate è senz'altro più conveniente ma io non mi metterei mai a discutere con un uomo che facesse domande di questo genere socrate faresti bene caro infatti non sarebbe conveniente per te essere riempito da discorsi come questi per te così vestito in modo bello calzato in modo bello per la tua sapienza famoso fra tutti i greci io invece non ho nessuna difficoltà a intrattenermi con quest'uomo allora istruiscimi e rispondi per me quell'uomo dirà se il mestolo di legno di fico è più conveniente del mestolo d'oro allora non dovrà essere anche più bello dal momento che tu socrate hai ammesso che il conveniente è più bello del non conveniente dovremmo ammettere o no ipia che un mestolo di legno di fico è più bello di un mestolo d'oro ipia socrate vuoi che ti suggerisca il modo in cui devi definire il bello per liberarti da molti discorsi socrate è certamente però non prima che tu mi abbia detto quale dei due mestoli di cui prima parlavamo devo rispondere che è conveniente e più bello ipia ma se vuoi rispondigli che è più bello quello fatto di legno di fico socrate ora dimmi quello che stavi per dire poco fa in base alla tua risposta infatti se io gli dirò che il bello è l'oro risulterà mi pare che l'oro sia per niente più bello del legno di fico ma ora che cosa dici che è il bello ipia te lo dirò a me pare che tu cerchi un qualcosa di bello tale che non possa mai diventare brutto in nessun modo e per nessuno socrate certo ipia ora mi capisci bene ipia perciò ascolta sappi allora che se qualcuno avrà ancora da criticarti in questo di pure che non sa proprio niente socrate parla senza indugi nome degli dèi ipia io dico dunque che per ogni uomo sempre dovunque la cosa più bella è l'essere ricco sano onorato dai greci e dopo aver raggiunto la vecchiaia e decorosamente deposto nella tomba ai propri genitori essere sepolto dai propri discendenti in modo bello e con magnificenza socrate evviva ipia hai parlato in modo magnifico grandioso e degno di te e per era ti ammiro perché mi sembra che per quanto puoi ti sforzi di venirmi in aiuto con benevolenza ma ugualmente non ce l'abbiamo fatta con quell'uomo e ora sappilo bene riderà di noi ancora di più ipia sarà un risovile socrate infatti se non avrà niente da contrapporre alle cose che abbiamo detto il ride e di se stesso che dovrà ridere e sarà deriso anche dai presenti socrate forse così però per questa risposta come prevedo si dà il caso che non si limiterà a deridermi ipia perché mai socrate perché se si troverà ad avere fra le mani un bastone e io non riuscirò a scappare e cercherà di picchiarmi a dovere ipia che cosa dici quest'uomo allora è forse padrone di te e dopo aver fatto questo non sarà trascinato in tribunale e non sarà condannato la vostra città è forse senza giustizia e lascia che i cittadini si percuotano a vicenda contro giustizia socrate non lo permette affatto ipia allora sconterà la giusta pena se ti colpirà ingiustamente socrate non mi pare ipia proprio no non mi picchierà ingiustamente ma mi pare a giusta ragione se gli darò queste risposte ipia sembra così anche a me socrate dal momento che tu stesso sei di questo parere socrate posso dirti il motivo per cui ritengo che sarei giustamente picchiato dando questa risposta o forse anche tu vuoi picchiarmi senza processo mi permetterai di parlare ipia sarebbe cosa tremenda socrate se non ti ascoltassi ma che cosa intendi dire socrate ti parlerò nello stesso modo di poco fa imitando quell'uomo per non dire io direttamente quelle parole dure sgradevoli che gli dirà contro di me sappi bene che in effetti mi dirà dimmi socrate credi che riceverebbe percosse in modo ingiusto chiunque canti un ditirambo in modo così stonato andando lontano dalla domanda iniziale ma in che modo io gli dirò e lui risponderà come non sei capace di ricordarti che ti avevo chiesto che cosa è il bello in sé quel bello che rende bello tutto ciò in cui è presente e pietra e legno e uomo e dio e azione e cognizione io ti domando buon uomo che cosa è il bello in sé e non riesco a farmi ascoltare da te più che se avessi accanto a me una pietra o una macina senza orecchie senza cervello ti adireresti con me se io spaventato queste parole rispondessi ma in verità che questo è il bello me l'ho detto ippia eppure io facevo a lui queste stesse domande che tu ora fai a me ossia che cos'è il bello per tutti sempre che cosa diresti allora ti irriteresti con me se io dovessi dare queste risposte ippia no socrate so bene che il bello è questo che io ho detto e che tale sembrerà a tutti socrate lui mi domanderà e anche lo sarà sempre infatti il bello in qualche modo è bello ippia certamente socrate e dunque anche lo era mi domanderà ippia anche lo era socrate e lui dirà lo straniero di elide ha detto che anche per achille il bello era essere sepolto dopo i suoi genitori e anche per il suo avo e aco e per tutti quanti discendono dagli dei e per gli dei stessi ippia che cosa è mai questo mandalo a miglior vita le domande di quell'uomo sono sconvenienti socrate socrate come il rispondere alla sua domanda che le cose stanno così non è forse sconveniente ippia forse socrate allora dirà forse sei tu che dici che per tutti e per sempre il bello è l'essere sepolti dei propri discendenti dopo aver dato sepoltura ai propri genitori ma uno fra tutti non era anche eracle e anche tutti quelli di cui abbiamo parlato poco fa ippia ma io non dicevo per gli dei socrate neppure per gli eroi a quanto sembra ippia non per quelli che erano figli degli dei socrate ma per quanti non lo erano ippia sicuramente socrate dunque secondo quello che hai detto a quanto pare la cosa è terribile empia e turpe per gli eroi quali tantalo dardano e zeto e invece è bella per pelope e per tutti gli altri che sono stati generati allo stesso modo ippia mi sembra socrate allora dirà a te pare quello che poco fa non dicevi ossia che dopo aver degnamente onorato i propri genitori l'essere sepolti dai discendenti talvolta e per alcuni è brutto anzi e più ancora come sembra risulta addirittura impossibile che ciò sia stato e sia bello sempre e per tutti e così anche per questo come per i casi precedenti della bella ragazza e della bella pentola vale la stessa cosa e in modo ancora più ridicolo ossia di essere per alcuni bello e per altri brutto e dirà anche neppure questa volta socrate se in grado di dare una risposta alla domanda che cosa è il bello così dunque con queste parole mi insulterà giustamente se gli risponderò in questo modo per lo più ippia discute con me all'incirca in questa maniera però a volte per pietà per la mia insipienza e ignoranza lui stesso mi suggerisce una risposta mentre mi interroga se per caso a me pare che il bello sia una determinata cosa oppure anche su qualche altro argomento su cui mi sta interrogando o su cui cade il discorso ippia che cosa vuoi dire con questo socrate socrate te lo dirò divino socrate smetti di darmi risposte di questo tipo infatti le tue risposte sono troppo semplici e facili da confutare esamina invece se ti pare che il bello sia quello che poco fa abbiamo preso in considerazione nella tua risposta quando dicevamo che loro è bello per quelle cose alle quali conviene e che non è bello per quelle cose per le quali non conviene e che lo stesso vale per le cose nelle quali esso è presente esamina allora il conveniente e la sua natura per vedere se non dia il caso che esso sia il bello quando quel tale mi interroga io di solito mi mostro d'accordo in ogni caso perché non sono in grado di rispondere a te allora pare che il conveniente sia il bello ippia certamente socrate in ogni modo socrate facciamo l'indagine per non cadere in qualche inganno ippia bisogna fare l'indagine socrate fa allora attenzione dobbiamo dire che il conveniente è ciò che quando è presente il conveniente fa sembrare le cose belle o le fa essere belle oppure nessuna delle due cose ippia mi sembra che sia ciò che le fa sembrare belle è come quando uno indossa abiti o calzari che gli stanno bene anche se è ridicolo sembra più bello socrate dunque se il conveniente fa sembrare una cosa bella più di quanto non sia allora il conveniente sarebbe un inganno per quanto riguarda il bello e non ciò che noi cerchiamo ippia infatti noi in qualche modo cerchiamo ciò per cui tutte le cose belle sono belle così come ciò per cui tutte le cose grandi sono grandi qualcosa di superiore in quanto per questo tutte le cose grandi sono grandi e anche se questo qualcosa di superiore non appare le cose sono necessariamente grandi allo stesso modo diciamo il bello per cui tutte le cose belle sono belle sia che tali appaiono sia che no che cosa è non potrebbe infatti essere il conveniente perché secondo il tuo discorso esso fa apparire le cose più belle di quanto non lo sono e le fa apparire come non sono bisogna cercare invece di dire che ciò che fa essere belle le cose come prima dicevo sia che appaia sia che no è questo che dobbiamo ricercare se cerchiamo il bello ippia ma il conveniente socrate con la sua presenza fa sia essere sia apparire belle le cose socrate allora è impossibile che in realtà le cose belle non sembrino essere belle quando in esse è presente ciò che le fa apparire belle ippia è impossibile socrate dunque ammetteremo questo ippia che tutte le cose che in realtà sono belle come leggi e occupazioni sono ritenute belle e tali appaiono a tutti o che al contrario non sono riconosciute come belle e che su di esse più che su tutte le altre ci sono contrasti e lotte sia privatamente per i singoli sia pubblicamente per le città ippia piuttosto socrate si deve dire che non sono riconosciute socrate non sarebbe però così se a esse fosse presente anche l'apparire e sarebbe presente se il conveniente fosse il bello e facesse non solo essere belle ma anche apparire belle le cose così se il conveniente fosse ciò che fa essere belle le cose sarebbe il bello che noi cerchiamo ma non è ciò che le fa apparire belle se invece il conveniente è ciò che fa apparire belle le cose allora non sarebbe il bello che noi cerchiamo esso infatti fa essere belle le cose infatti la medesima cosa non potrà mai apparire e far essere le cose non solo belle ma neppure in nessun altro modo decidiamo allora se il conveniente risulta ciò che fa apparire belle le cose o ciò che le fa essere ippia mi pare socrate che sia ciò che le fa apparire belle socrate ahimè ippia si allontana e fugge via da noi la conoscenza di che cosa è il bello in quanto il conveniente ci è risultato qualcosa di diverso dal bello ippia sì per zeus socrate è proprio in maniera assurda socrate però caro amico non lasciamo ancora cadere la cosa io infatti ho ancora qualche speranza che si possa scoprire che cosa è il bello ippia certamente socrate perché non è difficile trovarlo io so bene che se mi ritirassi per poco tempo e potessi riflettere da solo con me stesso te lo potrei dire nella maniera più esatta di ogni esattezza socrate non dire cose grandi ippia guarda quante difficoltà la cosa ci ha già procurato fa attenzione che infastidito il bello non ci scappi via ancora di più io veramente non dico nulla però credo che lo scoprirei facilmente quando sarai da solo però per gli dèi se vuoi trovalo in mia presenza e come hai fatto finora cercalo insieme con me e se lo troveremo tanto meglio se no mi rassegnerò penso alla mia sorte mentre tu dopo che te ne sarei andato lo troverai facilmente se invece ora lo scopriamo non ti preoccupare perché non ti darò più fastidio con le mie domande su quello che avresti scoperto da solo considera ora quello che te pare essere il bello io dico ma tu fa attenzione che io non sragioni che il bello è per noi ciò che è utile e lo dico sulla base delle seguenti considerazioni noi diciamo che sono belli non gli occhi che risultino incapaci di vedere ma quelli che sono capaci di vedere che sono utili a tale scopo non è così Ippia certamente Socrate ebbene non consideriamo forse bello il corpo nel suo insieme quello adatto a correre quello capace di lottare e così pure riferendoci a tutti gli animali non chiamiamo bello un cavallo un gallo una quaglia allo stesso modo e così non consideriamo belli tutti gli oggetti che usiamo i mezzi per muoversi per terra e per mare navi mercantili e tre remi e anche tutti quanti gli strumenti musicali e quelli delle altre arti e se vuoi le occupazioni, le leggi quasi tutte queste cose le consideriamo belle alla stessa maniera se rispondono alle caratteristiche sopraindicate osservando ciascuna di queste cose nella natura che ha nel modo con cui è stata fatta nella condizione in cui si trova noi diciamo che è bella quella che è utile come che è a che cosa e quando utile la diciamo brutta invece se non è utile da nessun punto di vista sembra anche a te Ippia che sia così Ippia sì Socrate allora diciamo giusto affermando che il bello è l'utile più di ogni altra cosa Ippia diciamo giusto Socrate Socrate allora ciò che ha il potere di fare ciascuna cosa in ciò in cui ha il potere in questo è anche utile mentre ciò che non ha potere è inutile Ippia sicuramente Socrate il potere allora è una cosa bella e il non avere potere è una cosa brutta Ippia certamente del resto Socrate una prova che le cose stanno proprio così ci è fornita tra l'altro proprio dalla politica infatti nelle faccende politiche e nella propria città l'avere potere è la cosa più bella il non avere potere è la cosa più brutta Socrate dici bene allora per gli dei Ippia è per questo motivo che la sapienza è la cosa più bella e l'ignoranza è la più brutta Ippia che cosa intendi dire Socrate? Socrate abbia pazienza caro amico in quanto ho paura di quello che stiamo per dire Ippia e di che cosa hai paura Socrate dato che ora il tuo ragionamento procede in modo molto bello Socrate lo vorrei proprio prima però considera questo con me un uomo può fare qualche cosa di cui non ha conoscenza o che non ha in alcun modo il potere di fare Ippia niente affatto come potrebbe infatti fare quello che non ha il potere di fare Socrate allora coloro che sbagliano e compiono cattive azioni anche involontariamente se non avessero il potere di farlo non le farebbero certamente Ippia è evidente Socrate ma quelli che possono possono perché hanno potere e non certo perché non hanno potere Ippia no certo Socrate tutti coloro che fanno quello che fanno dunque hanno potere di fare quello che fanno Ippia sì Socrate ma tutti quanti gli uomini fanno cose cattive molto più che cose buone a cominciare dai fanciulli e sbagliano involontariamente Ippia è così Socrate e allora questo potere e questa utilità anche quando servono a fare del male sono belle o molto ci manca Ippia eh ci manca molto mi sembra Socrate Socrate il piacere e l'utile allora a quanto pare Ippia non sono il bello Ippia lo sono Socrate nel caso in cui possano produrre cose buone e tali cose siano utili Socrate dunque la tesi che il potere e l'utile sono senz'altro il bello se ne va via ma Ippia questa era la tesi che la nostra anima aveva intenzione di dire ossia che ciò che è utile e che ha il potere di fare qualche cosa di buono questo è il bello Ippia mi pare di sì Socrate ma questo è ciò che è vantaggioso o no Ippia certamente Socrate allora i bei corpi e le belle leggi e la sapienza e tutto quello di cui ora abbiamo parlato sono belli in quanto vantaggiosi Ippia è evidente Socrate allora il vantaggioso sembra essere il bello Ippia Ippia sicuramente in ogni caso Socrate Socrate ma il vantaggioso è ciò che produce il bene Ippia è vero Socrate e ciò che produce non è altro che la sua causa o no Ippia è così Socrate il bello allora è causa del bene Ippia lo è Socrate ma la causa Ippia è ciò di cui la causa è causa sono due cose diverse infatti la causa non potrebbe in nessun modo essere causa della causa fa questa considerazione non ci pareva che la causa fosse ciò che produce Ippia certo Socrate allora ciò che produce non produce nient'altro se non ciò che viene prodotto no certo viene prodotto ciò che produce Ippia è così Socrate è una cosa è ciò che viene prodotto altra cosa è ciò che produce Ippia sì Socrate dunque la causa non può essere causa della causa ma solo del prodotto che deriva da essa Ippia certamente Socrate allora se il bello è causa del bene ne conseguirebbe che dal bello dovrebbe derivare il bene e per questo come sembra noi consideriamo l'intelligenza e tutte le altre cose belle in quanto ciò che esse producono e generano il figlio ossia il bene è degno di essere ricercato e si dà il caso che le cose che scopriamo in seguito a queste considerazioni che il bello rientra nell'idea di padre del bene Ippia sicuramente dici bene Socrate Socrate e non è forse bello dire anche questo ossia che il padre non è il figlio e che il figlio non è il padre Ippia dici bene Socrate la causa in effetti non coincide con ciò che viene prodotto né ciò che viene prodotto con la causa Ippia è certamente bello Socrate per Zeus carissimo allora il bello non è il bene e il bene non è il bello o non ti pare che sia così in base alle cose che abbiamo detto Ippia no per Zeus non mi pare Socrate questo ci lascia davvero insoddisfatti e vogliamo concludere che il bello non è il bene e il bene non è il bello Ippia no per Zeus non sono per niente soddisfatto Socrate sì per Zeus Ippia tra tutti i discorsi che abbiamo fatto questo è quello che mi soddisfa di meno Ippia sembra proprio così Socrate si dà il caso che quello che poco fa ci pareva il più bello dei discorsi ossia che il bello fosse il vantaggioso l'utile e ciò che ha il potere di produrre il bene non regga più mi risulta ancora più ridicolo di quelli di prima nei quali credevamo che il bello fosse una bella ragazza e ciascuna delle altre cose di cui si è detto Ippia pare Socrate e non so più da che parte girarmi Ippia e mi trovo in difficoltà tu hai qualcosa da dire Ippia al momento presente no ma come prima dicevo dopo aver indagato so bene che troverò la risposta Socrate io però credo a causa del mio desiderio di sapere che non sarò capace di aspettarti infatti penso di aver trovato un ora il modo di uscire dalla difficoltà fa dunque attenzione se noi dicessimo che il bello è ciò che ci procura piacere non tutti quanti i piaceri ma quelli che abbiamo mediante la vista e l'udito perché dovremmo continuare a gareggiare con quell'uomo di uomini belli Ippia tutte le decorazioni le pitture le sculture ci procurano piacere a guardarle se sono belle e i bei suoni la musica tutta quanta e le narrazioni di leggende mitiche producono il medesimo effetto e così se noi rispondessimo a quell'uomo insolente nobile e amico il bello e il piacevole che ci giunge mediante la vista e mediante l'udito non credi che riusciremmo a trattenerlo dalla sua insolenza Ippia mi pare proprio Socrate che tu dica bene ciò che è bello Socrate e con questo diremo allora che le belle occupazioni e le leggi Ippia sono belle per il piacere che ci procurano mediante la vista e mediante l'udito o che hanno qualche altro carattere Ippia forse Socrate queste cose potrebbero sfuggire al nostro uomo Socrate no corpo di un cane Ippia non sfuggirà certamente a quell'uomo al quale io mi vergognerei di dire sciocchezze e di fingere di dire qualcosa dicendo invece niente Ippia chi è costui Socrate il figlio di Sofronisco che non mi permetterebbe di parlare con leggerezza di cose di cui non si è fatta indagine come se sapessi quello che non so Ippia però anche a me dopo che tu hai parlato pare che la cosa sia diversa per quanto riguarda le leggi Socrate calmati Ippia infatti si dà il caso che noi ricadiamo nella stessa difficoltà di poco prima a proposito del bello e che crediamo invece che ci sia un'altra via di uscita Ippia perché dici questo Socrate Socrate ti dirò la mia opinione seppur mi riesce di dirti qualcosa queste cose che riguardano leggi e occupazioni potrebbero non risultare strane e alle sensazioni visive e uditive noi però sosteniamo la nostra tesi che il bello sia il piacere che proviene dalla vista e dall'udito senza prendere in considerazione quello che riguarda le leggi se però l'uomo di cui parlo o chiunque altro ci chiedesse allora Ippia e Socrate perché delimitate il piacere che voi dite bello questa parte del piacere e non dite che sono belli i piaceri di tutte le altre sensazioni quali quelli dei cibi delle bevande degli amori e di tutte le altre cose di tal genere o dite che queste sensazioni non sono neppure piacevoli e quindi non sono affatto piaceri e che non ci sono piaceri in altro se non nel vedere né l'udire che cosa risponderemo Ippia Ippia risponderemo Socrate che anche in altre sensazioni ci sono assai grandi piaceri Socrate e lui dirà perché allora questi che sono piaceri non meno di quelli togliete questo nome e li spogliate del carattere di essere belli e noi risponderemo perché non c'è nessuno che non riderebbe di noi se dicessimo che mangiare non è piacevole ma bello e se dicessimo che un odore non è piacevole ma bello quanto poi ai piaceri dell'amore tutti ammetterebbero con noi che sono piacevoli in sommo grado ma che è necessario quando li si pratica praticarli senza che nessuno veda in quanto è assai vergognoso essere visti se noi dicessimo queste cose Ippia il nostro uomo risponderebbe so anch'io che da un pezzo vi vergognati di dire che questi piaceri sono belli poiché gli uomini non sono di questa opinione ma io non volevo sapere quali sia l'opinione dei più ma che cosa è il bello in sé noi credo risponderemo quello che abbiamo stabilito ossia questo noi pensiamo che il bello è quella parte del piacere che deriva dalla vista e dall'udito sei d'accordo su questo discorso o dobbiamo aggiungere qualcos'altro Ippia Ippia bisognerà rispondere come si è detto Socrate e non dire nient'altro che questo Socrate e lui dirà dite bene dunque se il bello è il piacevole che deriva dalla vista e dall'udito il piacevole che è al di fuori di questo è evidente che non è il bello saremo d'accordo Ippia sì Socrate e lui dirà allora il piacere che deriva dalla vista è un piacere che dipende dalla vista e dall'udito e il piacere che deriva dall'udito è un piacere che deriva dall'udito e dalla vista noi risponderemo niente è fatto il piacere che deriva da uno dei due sensi non potrebbe dipendere da tutti e due mi pare che tu dica proprio questo ma noi dicevamo che ciascuno di questi due piaceri è bello in sé per sé e che anche entrambi lo sono non risponderemo così Ippia certamente Socrate allora dirà un qualunque piacere differisce da un altro quanto all'essere piacere non intendo se un piacere è più grande o più piccolo o se è più o meno intenso dell'altro ma se uno differisca dall'altro proprio nell'essere piacere mentre uno è piacere e l'altro non lo è a noi non pare non è vero Ippia non pare proprio Socrate allora continuerà avete scelto questi piaceri distinguendoli dagli altri per un motivo diverso dall'essere piaceri vedendo che questi due hanno qualcosa che li differenzia dagli altri in considerazione nel quale voi dite che sono belli infatti il piacere che deriva dalla vista non è bello per questo ossia perché deriva dalla vista se fosse questa la causa dell'essere bello l'altro piacere che deriva dall'udito non potrebbe essere bello dunque il piacere della vista non è bello in quanto deriva dalla la vista noi gli risponderemo dici la verità Ippia lo diremo infatti Socrate neppure il piacere uditivo allora risulta essere bello in quanto deriva dall'udito infatti in tal caso non potrebbe essere bello il piacere che deriva dalla vista dunque il piacere che deriva dall'udito non è bello in quanto deriva dall'udito diremo Ippia che il nostro uomo dicendo queste cose dice la verità Ippia la verità Socrate ma l'uno e l'altro sono belli voi dite lo diciamo Ippia lo diciamo Socrate hanno allora qualche cosa di identico che li fa essere belli un carattere comune a entrambi e che è presente anche in ciascuno dei due in particolare infatti se fosse diversamente non sarebbero belli considerati sia insieme sia singolarmente rispondimi dunque come se parlassi con lui Ippia rispondo che anche a me pare che le cose stiano come tu dici Socrate se dunque una affezione fosse comune a entrambi ma non appartenesse a ciascuno singolarmente non è per questa affezione che sarebbero belli Ippia e come potrebbe essere possibile questo Socrate che non avendo nell'uno nell'altro una certa affezione singolarmente si trovino poi ad avere quando sono insieme tale affezione che non hanno singolarmente nell'uno nell'altro Socrate non ti pare? Ippia dovrei essere del tutto inesperto sia della natura di queste cose sia del senso dei ragionamenti presenti Socrate parli in modo gradevole Ippia ma forse io mi illudo di intravedere qualche cosa che è proprio come tu dici impossibile e invece non vedo niente Ippia forse no Socrate ma sicuramente vedi male Socrate sono molte le cose che si manifestano che si manifestano alla mia anima ma io diffido di esse dal momento che non si manifestano a te un uomo che ha guadagnato più denaro di tutti con la sua sapienza e si manifestano invece a me che non ho mai guadagnato niente ho perciò l'impressione caro che tu ti prenda gioco di me e che deliberatamente mi inganni così tante numerose e forti sono le cose che mi si presentano Ippia nessuno saprà meglio di te Socrate se scherzo o non scherzo quando cercherai di dirmi queste cose che ti si manifestano risulterà allora che non dici niente tu non riuscirai mai a trovare qualche affezione che né tu né io possediamo singolarmente e che invece possediamo insieme Socrate come dici Ippia forse tu dici qualcosa ma io non capisco cerca di fare maggiore attenzione a quello che voglio dirti mi pare possibile che un'affezione che io non ho mai avuto e che in questo momento io non ho e che non hai neanche tu entrambi presi insieme invece la possediamo e che d'altra parte altre che entrambi presi insieme possediamo nessuno di noi due possiede singolarmente Ippia Socrate sembri uno che dice cose assurde ancora più assurde di quelle che hai detto poco fa considera infatti questo se entrambi siamo giusti non lo sarà forse anche ciascuno di noi singolarmente e se ciascuno di noi è ingiusto non lo saremo anche tutti e due e se tutti e due siamo sani non lo saremo forse anche ciascuno singolarmente o se l'uno e l'altro di noi è sofferente ferito colpito e se soffre di qualsivoglia altro male forse queste cose non le soffriamo insieme tutti e due ancora se entrambi fossimo d'oro d'argento d'avorio o se tu preferisci se fossimo nobili sapienti onorati vecchi o giovani o ci trovassimo a essere in qualunque altra condizione umana non sarebbe inevitabile che possedessimo queste caratteristiche l'uno e l'altro singolarmente considerati Socrate certamente Ippia ma tu Socrate non consideri le cose nella loro interezza né tu né coloro con i quali sei di solito discutere voi prendete in esame il bello e ciascuna delle altre cose cogliendone solo una parte e la fate a pezzi nei vostri discorsi e così vi sfuggono le grandi realtà continue della sostanza nella loro natura e ora questo ti è sfuggito al punto tale da farti credere che ci sia un qualcosa una affezione o una sostanza che appartenga a due cose insieme contemporaneamente ma non a ciascuna di esse singolarmente o che al contrario appartenga a ciascuna singolarmente ma non ad ambe due nel loro insieme in modo così sconsiderato assurdo e stolto la pensate tu e quelli con cui di solito ti intrattieni Socrate questa è la nostra condizione ippia di essere come si può e non come si vorrebbe dicono spesso gli uomini secondo il proverbio tu invece con i tuoi ammonimenti ci sei di aiuto ma ora prima che tu ci dia i tuoi avvertimenti sulla condizione in cui ci troviamo voglio darti una dimostrazione di questo dicendoti ciò che noi pensiavamo al riguardo o non devo parlare ippia parlerai a uno che la s'allunga Socrate infatti so bene quale sia la situazione in cui si trovano quelli che si occupano dei discorsi tuttavia se ti fa piacere parla Socrate mi fa davvero piacere noi infatti carissimo prima che tu dicessi queste cose eravamo tanto sciocchi da credere riguardo a te e a me che ciascuno di noi fosse uno ma anche che ciò che ciascuno di noi può essere non possiamo esserlo entrambi infatti noi non siamo uno ma due ci trovavamo in una posizione così sciocca ora abbiamo invece imparato da te che se presi insieme siamo due è necessario che anche ciascuno di noi singolarmente sia due e se singolarmente siamo uno è necessario che anche entrambi insieme siamo uno infatti non è possibile che le cose siano diversamente in base al discorso continuo di Ippia sulla sostanza ma ciò che è per la coppia vale anche per ciascun membro della coppia singolarmente e ciò che vale per ciascun membro vale anche per la coppia convinto da te dunque io mi fermo qui prima però Ippia fammi memoria di questo tu e io siamo uno oppure tu sei due eppure io sono due Ippia che cosa dici Socrate Socrate dico ciò che dico ho paura infatti che tu dica espressamente di essere adirato con me quando ritieni di dire qualcosa di giusto tuttavia dimmi ancora ciascuno di noi non è forse uno e non gli tocca appunto di essere uno Ippia certo Socrate allora ciascuno di noi se è uno dovrebbe essere anche dispari o non ammetti che l'uno è dispari Ippia lo ammetto Socrate e noi insieme pur essendo due siamo forse dispari Ippia non può essere Socrate Socrate ma l'uno e l'altro insieme siamo pari o no Ippia sicuramente e poiché noi due insieme siamo pari per questo anche ciascuno di noi è pari Ippia certo che no Socrate allora non è proprio necessario come tu dicevi poco fa che ciò che siamo l'uno e l'altro insieme deve esserlo anche ciascuno singolarmente e ciò che siamo singolarmente lo dobbiamo essere anche tutti e due insieme Ippia non è necessario per queste cose ma per quelle cose di cui prima dicevo sì Socrate basta così Ippia ci si può accontentare anche di questo dato che alcune cose sembrano così mentre altre no infatti io dicevo se ricordi da dove è partito questo discorso che i piaceri che derivano dalla vista e dall'udito non sono belli per questo ossia per l'affezione che ha ciascuno di essi ma non l'hanno entrambi insieme o che l'hanno entrambi insieme ma non ciascuno singolarmente ma per ciò che è comune a entrambi e a ciascuno singolarmente preso in quanto tu hai ammesso che sono belli tutti e due insieme e singolarmente proprio per questo pensavo che dovevano essere belli per una sostanza che si accompagna entrambi dato che entrambi sono belli e non per qualche cosa che mancava uno di essi singolarmente e lo credo anche ora ma dimmi come all'inizio se il piacere che deriva dalla vista e quello che deriva dall'udito sono belli sia presi insieme sia presi singolarmente ciò che li rende belli li deve accompagnare sia presi insieme sia singolarmente Ippia certamente allora per il fatto che essi sono piaceri sia singolarmente sia insieme per questo sarebbero belli o per questo anche tutti gli altri piaceri non sarebbero per niente meno belli di questi se ricordi infatti risultarono essere piaceri non meno degli altri Ippia me lo ricordo Socrate ma in quanto derivano dalla vista e dall'udito noi dicevamo che sono belli Ippia si diceva così Socrate vedi allora se dico la verità si diceva infatti se ben ricordo che il bello è il piacere non tutto ma solo quello che deriva dalla vista e dall'udito Ippia vero Socrate allora questa affezione si accompagna a entrambi insieme non a ciascuno singolarmente infatti ciascuno di essi come dicevamo prima non deriva da tutti e due ma tutti e due derivano da tutti e due e ciascuno di essi invece no è così Ippia è così Socrate allora ciascuno di essi è bello non per ciò che non si accompagna ciascuno perché l'essere tutti e due insieme non appartiene a ciascuno singolarmente per cui secondo la nostra tesi è possibile dirli belli tutti e due insieme ma non è possibile dire che è bello ciascuno di essi singolarmente o come dobbiamo dire non è necessario questo Ippia sembra Socrate dobbiamo allora dire che sono belli l'uno e l'altro insieme ma che ciascuno singolarmente non lo è Ippia e che cosa lo impedisce Socrate lo impedisce questo a mio parere caro ossia il fatto che in tutti gli esempi che ci hai portato il rapporto tra le cose e le loro affezioni era tale che se un carattere appartiene a due cose insieme appartiene anche a ciascuna singolarmente e se a ciascuna singolarmente appartiene anche a tutte e due insieme è così Ippia sì Socrate ma negli esempi che portavo io non era così tra di essi c'era l'essere uno dei due singolarmente e l'essere l'uno e l'altro insieme non è così Ippia certo Socrate allora Ippia in quale dei due casi ti pare che rientri il bello in quello di cui parlavi anche tu che cioè se tu e io siamo forti lo siamo anche entrambi insieme e se io e te siamo giusti lo siamo tutti e due insieme e se lo siamo insieme lo siamo anche singolarmente e allo stesso modo se tu e io siamo belli lo siamo anche ambedue insieme e se lo siamo ambedue insieme lo siamo anche ciascuno singolarmente o nulla vieta che come due numeri che messi insieme sono pari ciascuno sia pari oppure dispari o che pur essendo ciascuno di due singolarmente irrazionali insieme possono essere sia razionali che irrazionali e che così avvenga in innumerevoli altri casi che come ti dicevo mi venivano in mente allora in quale di questi due gruppi tu poni il bello sei della mia stessa opinione credo infatti che sia una grande assurdità che entrambi considerati insieme siamo belli e singolarmente no o che singolarmente siamo belli e insieme no e così anche per altri esempi di questo tipo sei d'accordo con me o la pensi diversamente Ippia penso anch'io così Socrate Socrate e fai bene Ippia perché in tal modo eviteremo di fare ulteriori ricerche infatti se il bello rientra in questo genere di cose esso non può essere il piacere che deriva dalla vista e dall'udito infatti il derivare dalla vista e dall'udito li rende belli l'uno e l'altro insieme ma non singolarmente e questo è impossibile come tu ed io abbiamo ammesso Ippia Ippia lo abbiamo ammesso Socrate è impossibile allora che il bello sia il piacere che deriva dalla vista e dall'udito in quanto se diventa bello implica qualche cosa di impossibile Ippia è così Socrate quel tale dirà allora di nuovo riprendete dall'inizio poiché in questo avete sbagliato dovete precisare che cosa è questo bello che è in entrambi i piaceri per cui avete considerato questi i più belli di altri mi pare che sia necessario dire Ippia che essi sono i più innocenti tra tutti i piaceri e i migliori sia ambedue insieme sia singolarmente o tu sei in grado di indicare qualcos'altro per cui essi si differenziano dagli altri Ippia proprio no Socrate essi sono in effetti i migliori Socrate dunque egli dirà voi affermate che il bello è un piacere vantaggioso io credo di sì dirò io e tu Ippia anch'io Socrate ma il vantaggioso dirà è ciò che produce il bene e ciò che produce e ciò che è prodotto ci sono sembrati cose diverse il nostro discorso torna allora a essere quello di prima infatti né il bene può essere il bello né il bello può essere il bene se ciascuno dei due qualche cosa di diverso senz'altro diremo se abbiamo buon senso Ippia infatti non è lecito non dare ragione a uno che parla in modo giusto Ippia ma Socrate che cosa pensi tu di tutte queste cose per me sono frammenti irritali di discorsi come dicevo poco fa divisi in piccoli pezzi invece ciò che è veramente bello e molto importante consiste nell'essere capaci di fare in modo bello e perfetto un discorso in tribunale nell'assemblea o davanti a qualche altra autorità a cui il discorso è diretto e dopo aver persuaso i presenti tornarsene a casa non con piccoli premi ma con i più grandi di tutti la sicurezza propria dei propri beni e degli amici appunto di questo ci si deve occupare dopo aver lasciato da parte questi piccoli discorsi perché sembri veramente pazzo nell'occuparti come fai ora di cose vacue e di sciocchezze Socrate caro Ippia tu sei un uomo felice perché sai quali sono le cose delle quali un uomo si deve occupare e di cui tu stesso ti sei occupato in modo adeguato come dici io invece come pare sono vittima di una sorte demoniaca per cui vado errando e mi trovo sempre in difficoltà e quando manifesto questa mia difficoltà a voi che siete sapienti vengo insultato dai vostri discorsi non appena l'abbia manifestata infatti voi dite come tu hai ripetito anche ora che io mi occupo di cose di scarsa importanza vacue inconsistenti ma una volta che convinto da voi dico le cose che dite voi ossia che ciò che vale di più consiste nell'essere in grado di comporre un discorso in modo perfetto recitarlo in tribunale o in qualche altra assemblea allora da quelli che sono qui presenti e da parte di quell'uomo che sempre mi confuta sento insulti di ogni sorta e infatti si dà il caso che quest'uomo sia il più legato a me per parentela e che abiti dove abito io quando torno a casa e mi sente ripetere questi discorsi mi domanda se non mi vergogno di avere l'audacia di parlare delle belle occupazioni io che mi lascio confutare in modo così evidente sul bello e in quanto non so neppure che cosa sia il bello in sé e dirà e come potrai sapere se un discorso è bello o no se una qualche azione è bella o no dal momento che non conosci il bello e pensi in una tale condizione che sia meglio vivere piuttosto che morire mi è successo come dico di essere trattato male di essere insultato da voi come da quel tale ma forse Ippia è necessario che io debba sopportare tutte queste cose non sarebbe strano infatti che ne traessi vantaggio mi pare comunque Ippia di aver tratto vantaggio dei discorsi di voi due credo infatti di aver compreso che cosa significa il proverbio le cose belle sono difficili di aver guardato Grazie a tutti. Grazie a tutti.